Che cosa ci sarà qua dentro? Ma è cuore divino, Long Fragrance di Albea Casa. Vi faccio vedere subito cosa c'è dentro, ma già dal nome penso che abbiate capito. Allora andiamo ad aprire la scatola, che già l'ho mezza aperta, perché sono con una mano. Guardate un pochino, ve lo tiro fuori, eh? Questo dopo si rimette, perché questa adesso è nuova confezione, per cui ma guardate quanto è bello, guardate, guardate, guardate. Questa è una boccia, la chiamo boccia, da 500 ml, sì, mezzo litro, di profumo per l'ambiente. Ma profumo, non deodorante, profumo, questa vi dura un anno, è grandissima. E questa bottiglia è in cristallo, bellissima. Poi toglieremo questo tappo, metteremo questo e le bacchette dentro. Le bacchette che poi andranno, per chi già lo sa, girate, perché queste si bagneranno. Si bagnano e poi dopo si girano, si girano ogni volta che si asciugano. Ma, che dire, questo è cuore di vino. E diciamo che, se vogliamo dare un profumo per farvi capire la profumazione cuore di vino, è un odore di frutti di bosco, fragole, lampone, è buonissimo, veramente buono, buono, buono. Quando lo metterete nel vostro ingresso, nella vostra stanza, insomma nel vostro ambiente, dove volete voi, in studio, in ufficio, chi ha un ambulatorio anche, vedrete quanto profuma. Vi chiederanno tutti, ma che profumo è? Ve lo dico perché io ce l'ho e così succede. Buonissimo, eccole qua, le bacchette vanno qui, ok? Cuore di vino, ma ne abbiamo 11 o 12 profumazioni diverse.